Fortissimo l'Ace di Yuki Ishikawa, 21-19 all'inizio di questo giocatore. Piccinelli, palla in mano a Giannelli, Herrera arriva con la ricorsa giusta, ma Ishikawa lo ferma sul posto, 10-10. Il numero due di Milano serve forte, Leon in difficoltà, Herrera che riesce comunque a tenerla viva. Semenuk regala praticamente una free ball, l'Allianz può sfruttarla, si sceglie Ishikawa! Ishikawa! Milano chiude il quarto set! Tati che tutte e quattro le partite vadano... Il ritmo diventa ufficilmente contrastabile. E va di pura, palla in mano, serve Ishikawa, uno controllo con Giannelli. Ishikawa velocizza il braccio in parallela, mette a terra, il pallone del meno uno. ...che ha visto le mani di Giannelli davanti alla palla. Le squadre sono state tutte e due in questo momento, a livello di lucidità. Parro per Ishikawa! Annullato il 7 pari. Che partita! Che partita è capitato della... C'è una destra di Eba di Pura, pallone spavoro, coratti per Ishikawa, gioca sulle mani, pallone nel campo di Perugia, Giannelli, una magia per Leon che spinge più selezzi. E Sanluc, l'ultimo a mollare, ancora si può di giocare, la parola della sette, spinta la difesa di Milano, un po' di confusione. Pallone ancora a due, Ishikawa, la ribotta di un appoggio di Protinischi, per Giannelli che cerca ancora una volta la pipe sul muro, è rara che si allunga. Dietro, infinibile, Protinischi per Leon, sulle mani nel muro, pallone vivo, al dino, nastro incredibile, ribolla Milano, Bonacchi, per Ishikawa, uno contro uno. Ishikawa la mette a terra, ma una grande azione, forse un po' confusa, ma una grande azione. Ma che ora va al servizio a forzare da Protinischi che tiene Giannelli, va per la pipe di Protinischi, ma c'è il muro di Milano che tiene. Allora Cesaresi per Porro, ancora un'altra pipe di Iupi, Ishikawa. Un po' discutibile della pipe, avendo il muro più alto proprio lì al centro. Serve su Semenio che palla lunga, ma è in campo, poi la tiene Porro in qualche modo, Semenio che attacca, ma sbaglia, poi la tenuta sua addirittura a sole. Porro, c'è Nishikawa, la chiude Milano. Che azione fare, lasciarci con lo giro è così proprio. La seconda linea, match point per Milano. Ricrezzone Ishikawa, tiene Porro, Melgareco, Flavio con il braccio a Leon e poi Giannelli ridutta di là, ancora free ball Perugia. Ishikawa! Milano è in semifinale, cade Perugia. Servizio di Herrera e parte il terzo set. Porro il primo tempo di piano, fermato ma coperto da Melgareco. Poi Ishikawa, palla morbida, ci arriva Colaci. Leon alza questo bagger, Herrera il muro, poi ancora Russo ci mette la mano. Leon cerca una palla spinta. Melgareco a centro del campo la tiene su, poi Ishikawa attacca forte. Mamma mia, che attacco sul vento. Colaci, Sava per prendere anche questo, io veramente. Un po' meglio, come sta facendo Milano. Milano lo deve fare solitamente per evitare. Melgareco spinge, Nassolo che aiuta Plotnitsky. Poi Giannelli va dietro da Ricrischi, il muro ancora di Matteo Piano, che chiude subito le... Spertisci, ma ancora la partita. Vediamo la ricezione di Mergareco. Porro, Patry, sulle mani del muro, la può rigiocare Milano, deve alzare Mergareco. Ishikawa, il muratore lo aspetta, si può ancora rigiocare. Porro sempre su Ishikawa, forte su Colaci. La palla finisce poi sui live pubblicitari. Parte Giannelli, cerca di tagliare di nuovo Piano, un po' in difficoltà. Porro dall'altra parte a cercare Ishikawa, cerca una rigiocata, palla che rimane lì. Alla fine Milano la deve regalare a Perugia. Giannelli può gestire, cerca Semeniuk, fermato dalle mani del muro. Ancora chance per i padroni di casa. Si cerca di nuovo Ishikawa, palla spinta! Di Yuki Ishikawa dove è andato a prenderla? Esatto, a prenderla, palla. E si dirò Lorenzo, il muro più debole. Roberto Russo per la Siria, pallone che scende, Milgareco c'è. Porro spostato in posto due, serve Piano. La grande difesa poi di Russo che si allunga. Flotninsky appoggia sul muro, Porro ci arriva. Ishikawa, pallone complicato. Milgareco sporta le mani del muro, poi l'appoggio di Flavio. Gennelli dietro per Herrera. Va fortissimo sulle mani del muro. Piano, con un guizzo, riesce a tenere vivo quel pallone. Poi Ishikawa, scuspo, buzzona, pene, fortuna. Perugia aspetta più un Mergareco in attacco. Variazione ricevuta da Alosser. Cercato Ishikawa, cerca una palla morbida. La tiene in qualche modo giocabile. Perugia chiamano una portata, praticamente, il pubblico di Milano. Ma si continua a giocare Ishikawa. Il muratrello aspetta, passa lo stesso Ishikawa. Il punto è di Milano. Vediamo, ma non lo fanno rivedere. Però non è questa l'azione, questa è la conclusione dello scambio con Ishikawa che batte il muro a tre. Mamma mia. E' ripetuta in aria. Gennelli dietro per Herrera, sulla terza, dentro di Ishikawa. Mura, Mergareco, si immola e tiene vivo questo pallone. Piazza Resi lo ridutta per Ishikawa che può addirittura attaccare. Mamma mia. Yuki Ishikawa rende il favore di Plotnitsky. Anche lo sguardo di Piazza Resi prima dell'alzata in posto due per vedere se... Piazza Resi, il primo tempo di Loser che non passa. Una mano per Patrip, palla complicata. Stemeneu che la difende in qualche modo. Poi Leona alza il bagherone. Il muro aspetta lì Herrera. La tiene Badipur. Borro, Ishikawa, tocco morbido. Yuki, Ishikawa, scambio lungo. Se lo porta a casa. Incredibile. Che spettacolo, Piazza. Perché anche Borro con quella pinta di attacco poi è l'alzata una mano per Patrip. Ancora Giannelli, stavolta a forzare zona di conflitto. Mergareco c'è Enrique. Poi Ishikawa non trova le mani ma trova una palla nell'angolino. Ha fatto un gran colpo. È andato sopra il muro. Ha allungato un colpo. Qualità le hanno per poter controbattere e cambiare ritmo. Borro va a forzare per Piano. C'è una difesa di Riklitsky a mani alte. Russo dietro per Plotnitsky. Desaresi, attento, lungo in posto 6. Allora si può rigiocare. Borro per Ishikawa. La pipe. Sembra che in una fretta li metterà la palla in attacco perché si vede all'OCR. Vediamo l'OCR come serve. Serve bene. Leone però riceve altrettanto bene. Giannelli, il primo tempo di Flavio. La palla torna nel campo di Milano che si può riorganizzare. Si cerca Ishikawa. 21-23. È incredibile quello che stiamo assistendo. Un set che sembrava più... Spinge subito Nastro. Pesaresi ci arriva in tuffo. La pipe di Ishikawa. Il primo tempo e ha servito benissimo Ishikawa. Paolo Porro. Spire forte da Plotnitsky. Icezori che si sposta verso posto lui. Giannelli apre per Leone. Quattro possono pensare di là. Mergare con l'appoggio per Porro. Spinge forte per Ishikawa. Una bordata. Insulta. Coce piazza. Grande azione di Milano. Esagera un po' in questo caso. Giannelli è praticamente fuori dal seggiorno dell'arbitro. Cerca di ribaltarlo in posto 4. Forse... Pesaresa. Spire ancora sul 9-5. Falla a porta. Ci arriva addirittura a piano. Porro spinge veloce per Ishikawa. Il pallone è Ishikawa. Pallonetto che funziona. Bellissimo. Bellissima giocata da parte di Ishikawa. Che trova proprio... Bellissima giocata da parte di Ishikawa. Bellissima giocata da parte di Ishikawa.